Oggi vi mostro una bella applicazione per usare e per fare i lavori con la fotocamera Questo programma si chiama fotocamera Pippe ed è scaricabile dal Play Store Eccolo qua, si sta aprendo Adesso vado a Paint Lab Mi fa vedere la fotocamera Faccio la foto Dobbiamo sopportare un po' di pubblicità ovviamente Ecco qua Adesso io do questa formattazione Andavo ad installare questa pubblicità Infatti dice processi Eccolo qua Ho modificato tutto il mio disegno Così si aumenta e si abbassa la donna Vedi? Guarda, è una semplici fotografia da mano, però guarda Si vado a cambiare E' un programma abbastanza, è un programma carino per fare Nelle fondifiche in maniera veloce Vedi? Mettiamo questo Mettiamo questo Questo invece va di più Ci sono già troppo in simbolo Ovviamente Vediamo questa Andrubbela fatta sui visi E poi andiamo a cliccare Una volta che abbiamo deciso quale vogliamo scegliere Ecco, ancora, prendiamo questa per esempio Andiamo a cliccare sull'ascio punta in alto Vedi? E' andata a salvare la foto E abbiamo l'opzione di condivisione Facciamo inizio No, è andata su inizio Dove andare su condivisione Sbagliato Facciamo un'acqua C'è per esempio Tendiamo Tendiamo Eccolo Prendiamo Questo sono io Prendiamo Questa qua per esempio Passiamo giù Facciamo avanti Se si possa accendere la sua Grazie a tutti